È stata conclusa come previsto nel fine settimana l'asfaltatura di Piazza del Cure e delle vie laterali ed è attiva la nuova viabilità. Non completamente la corsia in cui vi parliamo per esempio è ancora chiusa, sarà quella in cui passeranno gli autobus. A metà mattina il traffico è abbastanza scorrevole ma le ore calde sono quelle di inizio mattinata. Non si sa ancora bene quando invece sarà trasferito di nuovo qui in piazza il mercato. All'inizio doveva essere pronto per l'inizio delle scuole, ancora non c'è una data precisa. Certo è che gli ambulanti che in questo momento sono al Mandela Forum chiedono che non sia trasferito il mercato a dicembre che è un mese caldo sotto Natale. Quindi chiedono o prima a novembre o dopo a gennaio. Per quanto riguarda la nuova viabilità che comprende la riapertura di via Borghini, lo spostamento presso di alcune fermate degli autobus e il cambiamento di viabilità soprattutto nella parte esterna della rotatoria, abbiamo sentito i cittadini. Chi non prende la macchina è molto scontento, chi invece usa l'auto è molto positivo su questo cambiamento di viabilità. Come va il traffico? Per il momento sembra benino, poi si vedrà più traffico, quando ritorna al mercato qua si vedrà quello che sarà, perché per il momento il mercato non c'è e quindi non ci sono tanti problemi, perché tanta gente non si ferma per al mercato via dicendo con le autovetture. La nuova viabilità non ha migliorato niente da stamani? No, perché ero con i tre, io sono andata, ci hanno lasciato lì, pensavo tornasse indietro, una signora gli ha detto che se tornasse indietro invece no, finita la linea lì. Peggioramenti, non miglioramenti, peggioramenti. E neanche il parcheggio si trova facilmente. Non mi pronuncio. Però la sua espressione è problematica. È cambiata un po' la viabilità? Ma non lo so, perché ancora non è proprio stabilito tutto, può darsi che migliori col tempo. Comunque mi sembra migliorata, indubbiamente. Insomma, da come era prima si gira un po' meglio. Ci si ferma male, ma mi sembri giusto.